Salve a tutti e benvenuti in questa nuova serie di tutorial. Ho deciso di fare una serie di tutorial su Adobe Premiere Pro perché è un software di video editing che sto imparando a utilizzare recentemente per effettuare il mio passaggio definitivo da Sony Vegas slash Magic Vegas ad Adobe Premiere e ho deciso di creare questa serie di tutorial mentre imparo ad utilizzarlo sia per, diciamo, migliorare le mie conoscenze di Premiere quindi come una sorta di ripasso per me, sia per poter fornire appunto a tutti la possibilità di imparare qualcosa di nuovo spero su questo fantastico programma di video editing. In questo primo video vedremo le cose fondamentali del programma, le cose basi, quindi l'interfaccia e qualche funzione base su qualche video di test che ho creato apposta per questo tutorial. L'interfaccia di Adobe Premiere Pro si mostrerà così appena aperto, ovvero con la schermata di video editing. Questi di qua sono i vari workspace, ognuno di questi ha una funzione diversa, principalmente vanno a spostare diversi pannelli, diverse funzioni in diversi lati della schermata. Questa è la schermata di default del programma. In basso a sinistra troveremo il media browser, quindi la timeline, il pannello con i vari strumenti, poi avremo l'anteprima del video e poi questa schermata di qui che serve principalmente per poter modificare un video prima di importarlo, quindi ad esempio importare soltanto una parte di video, oppure anche per i vari controlli degli effetti, ad esempio il pannello crop, il masking e altri effetti video, che funziona esattamente come il pannello dei controlli effetti di After Effects. Quindi se avete visto il mio video su After Effects che ho creato un paio di anni fa su come realizzare le scritte animate in 3D, è la stessa identica cosa. E poi abbiamo anche i metadata che praticamente sono delle semplici informazioni che è possibile inserire all'interno del progetto, all'interno del video, per ad esempio il nome dell'autore del video, il regista e quant'altro, se si tratta poi di cortometraggi o lungometraggi. Però per YouTube questa parte di qui dei metadata non ce ne frega niente, quindi possiamo benissimo anche chiudere questo pannello, chi se ne frega. A questo punto io userò invece il mio workspace, in cui praticamente ho spostato il media browser qua sopra in alto a sinistra, ho allargato un po' la timeline e ho dato meno spazio agli strumenti, che anziché essere divisi su due colonne, li ho suddivisi in una sola colonna per avere un pochettino di più di spazio. Poi ovviamente il player qua a destra, i contratti di effetti li ho lasciato qua invariato. Questo perché questa interfaccia di qua è quella che mi si avvicina maggiormente a quella di Vegas, col quale sono abituato. Perché se oltre a questo conoscete anche il mio primo canale YouTube, quello che ho aperto nel 2007, Bene, utilizzo Sony Vegas su quel canale praticamente dal 2009 e per tutte le YouTube pub che ho fatto, ho sempre usato Sony Vegas, mi sono trovato sempre benissimo, non ho mai avuto problemi con Sony Vegas, tranne qualche crash random, qualche problema di performance e quant'altro, è andato sempre abbastanza bene quel programma. Vediamo adesso velocemente come importare un video su Adobe Premiere. È possibile farlo in due modi, tre praticamente, ma due modi sono praticamente la stessa cosa. È possibile importarlo tramite il classico drag and drop, quindi prendendo un video da una cartella e poi andandolo semplicemente a spostare all'interno della timeline in questo modo. Quindi Premiere andrà automaticamente ad importare il file o i file, se ne avete scelto più di uno, e andrà a creare automaticamente la composizione con la stessa identica risoluzione del video. Andrà poi a creare quindi anche la timeline con le varie tracce audio e video. In questo caso una traccia video, una traccia audio, più altre due extra, sia video che audio. La timeline di default quindi avrà sei tracce, tre video e tre audio, ma si possono avere infinite tracce nella timeline di Premiere, così come anche su Vegas. Il secondo metodo per importare un video, che questo non andrà creato automaticamente nella timeline, è invece quello di fare clic destro sul media browser, quindi import, e quindi andandolo direttamente ad importare da qui stesso. Il terzo metodo, che è praticamente la stessa cosa, anziché fare clic destro e import, potete anche fare semplicemente doppio clic sul media browser ed importare il clip da qui stesso. Praticamente avete visto, questi due metodi sono la stessa identica cosa. Il metodo più comodo però che ho trovato io è quello di trascinare un clip direttamente nella timeline, così andrà anche a creare automaticamente le tracce. Invece, se vogliamo soltanto importare il video o l'audio di un determinato clip, allora è consigliabile fare invece questo metodo, ovvero importarlo nel media browser e non nella timeline, perché da qui possiamo fare doppio clic sull'anteprima, e comunque questa qui è un'anteprima in tempo reale del video, infatti spostando il cursore sul video stesso vedrete che ci va a vedere un'anteprima del contenuto del video. Facendo doppio clic sul video, possiamo quindi poi scegliere se importare soltanto il video o soltanto l'audio, e anche soltanto un pezzo dell'intero video, se proprio vogliamo. Ad esempio posso prendere soltanto questo pezzo di qui, quindi vado a ridurre lo zoom, vado a mettere il marker iniziale qui, vado un po' avanti ad esempio, metto un marker finale qui, e vado ad importare soltanto il video, trascinando questa icona a forma di pellicola sulla timeline. Mi andrà ad importare soltanto questo pezzo che ho selezionato nell'anteprima, e soltanto il video, senza crearmi anche l'audio. Se invece li voglio entrambi, allora anziché trascinare uno di questi, trascinerò direttamente il video stesso. Quindi dall'anteprima stessa, proprio dal video stesso, trascinando mi andrà a creare sia il video che l'audio. Mentre se voglio soltanto l'audio, allora trascinerò semplicemente la waveform da qui alla traccia audio in cui voglio importarlo. Molto semplice, potrei vedere. E già queste di qui, è una funzionalità in più rispetto a Sony o Magix Vegas. È molto meglio poter importare soltanto un pezzo di video, anziché poi andare a cercare qua stesso, e ritagliare. Già è molto più comodo avere soltanto quel pezzo di video. Inoltre si può anche allungare di qua, e si può avere il resto del video tranquillamente. Quindi non è limitato, non andrà a creare un subclip del video stesso, ma andrà semplicemente a delimitare quello che viene importando la timeline, che possiamo comunque estendere anche dalla timeline stessa. Per questo video tutorial di esempio di Premiere, andrò ad importare l'intero video. Quindi vado a togliere questi due marker. Vado all'inizio, e quindi poi vado alla fine del video. Importo quindi l'intero video. E ho qui l'intero video importato sulla timeline. Questo qui è un video che ho registrato con la Panasonic GH5 in 4K, e questo mi consente anche di zoomare il video fino a 2V, a volte esportarlo in 1080p e non avere la minima perdita di qualità. È ottimo. Infatti molti che ad esempio fanno video anche in 1080p, registrano in 8K e possono zoomare tantissimo sul video stesso senza perdere qualità. Andiamo adesso a vedere gli effect controls, ovvero i controlli degli effetti. Ad esempio per fare il pan and crop di Sony Vegas, il masking e quant'altro. È molto semplice. Innanzitutto per poter vedere gli effetti dobbiamo selezionare il clip del quale vogliamo modificarli, quindi selezionerò l'unico clip sulla timeline e ci appelleranno tutte queste voci qui a sinistra. Cliccando su Motion possiamo spostare il video direttamente dall'anteprima stessa, cosa che su MyGlass non si può fare con i clip video, ma si può fare con i testi generati. È possibile anche ridimensionare da qui stesso. E anche roteare come vogliamo. Potete vedere i tool e le maniglie di trasformazione sono gli stessi, identici, di quelli di Adobe Photoshop o Illustrator, qualunque altro programma dell'Adobe comunque. È possibile poi resettare cliccando su questa freccetta qui. È possibile anche avere un controllo più preciso sulla posizione e la scala direttamente in valori numerici. È semplice, io voglio zoomare questo di qui esattamente a 2 volt, anziché mettere qui 100, andrò a scrivere 200, e avrò il video ingrandito di 2 volt. Come potete vedere non c'è una perdita di qualità, perché il video essendo in 4K si può downscalare in 1080 tranquillamente, zoomando fino a 2 volt. E quindi si avrà questo bellissimo zoom sul video stesso, si può spostare in 1080p, e non si noterà per niente che è stato downscalato, a meno che ovviamente non sono delle cose ovvie. Per quanto riguarda il masking c'è questa categoria chiamata opacity, comunque se non l'avete direttamente queste voci di qua, vuol dire che dovete prima estenderli cliccando su queste freccette. L'opacity sarebbe il masking, praticamente. È possibile avere un masking libero utilizzando la penna, e quindi andando direttamente a tracciare quello che volete sul video stesso, in questo modo. E avremo qua il nostro bellissimo masking, dal quale possiamo poi anche fare il feathering e quant'altro, in perfetto stile After Effects. E qui ci ritorneremo tra poco, perché possiamo fare questa cosa effettivamente con After Effects, che secondo me è anche molto meglio. Comunque sia, è possibile fare il masking da qui, utilizzando questi tool sotto la voce opacity, sia per quanto riguarda la penna, che anche un semplice rettangolo, oppure un cerchio ellis, quello che volete. Se io prendo ad esempio questo ramo, posso poi aggiungere un po' di sfumatura della maschera, per renderlo più morbido, così. E volendo posso anche sovrapporlo a un altro video. Quindi ad esempio vado ad importare questo video qui sotto, e avremo questo effetto di composizione con questa maschera qui, che possiamo spostare dove vogliamo, o la maschera in sé, oppure anche l'intero clip, utilizzando il pan and crop. Come potete vedere, è una composizione molto semplice, non ha molto senso ovviamente sovrapporre un ramo ad una ripresa di un mare, però comunque era giusto per dare l'idea di ciò che è possibile fare, utilizzando il masking anche su Premiere stesso. Comunque sia, dicevo poco fa che questa cosa di qui conviene farla meglio con After Effects, ovviamente dovete avere After Effects installato, ma è possibile benissimo fare questa cosa anche con After Effects. Infatti esiste una funzione che collega i vari programmi della suite di Adobe tra loro. Questa cosa si chiama Dynamic Link, ed è possibile utilizzare infatti un clip di Premiere, direttamente su After Effects, in tempo reale è possibile applicare gli effetti e vederli anche su Premiere stesso. che è una cosa fantastica. Io in pratica ho usato da sempre After Effects per fare più che altro il masking e alcuni effetti particolari su dei video che poi montavo su Sony Vegas. E per ottenere questa cosa dovevo renderizzare i video da Sony Vegas, importare su After Effects, fare le modifiche, renderizzare da After Effects e reimportare su Sony Vegas, perdendo un po' di qualità e perdendo anche un cassino di tempo a seconda della qualità con la quale renderizzavo per importarlo da un programma all'altro. Mentre con Premiere questo non c'è più bisogno. Infatti è possibile direttamente usare After Effects e Premiere in contemporanea tra loro. Come si fa questo? Molto semplice. Innanzitutto dovete avere sia After Effects che Premiere della stessa versione installati, ovviamente. Non potete usare ad esempio After Effects CS6 con Premiere Pro CC 2018, dovete avere la stessa versione di entrambi i programmi. Per fare questo, clicchiamo col destro sul clip che vogliamo modificare su After Effects e quindi clicchiamo su Replace with After Effects Composition. In italiano sarebbe sostituisci con una composizione di After Effects o una cosa del genere. cliccando qui automaticamente andrà ad aprirsi After Effects e una volta che partirà il programma, grazie alla magia il video editing sarà istantaneo, ci appaierà questa schermata di qui che ci chiederà di salvare. Dobbiamo per forza salvare perché altrimenti darà un errore generico su Premiere e non ce ne farà a fare nulla. Quindi mettiamo un nome a caso, anche lasciamolo così com'è, salviamo, ok e adesso avremo una composizione di After Effects con questo clip, con questo video, esattamente il video che abbiamo su Premiere. Adesso metto i due programmi uno accanto all'altro per poter farvi vedere meglio cosa intendo di workflow contemporaneo tra i due programmi. Ad esempio andiamo in un punto del video in cui ci interessa applicare un effetto. Mettiamo ad esempio una correzione colore con il Levels, vado a metterlo qui, modifico un po' un po' l'istogramma e diciamo che ho fatto la mia correzione colore, per dire. Quando apro, o meglio clicco su Premiere, questa modifica senza neanche aver salvato, notate qua che c'è l'asterisco, quindi non ho neanche salvato, automaticamente me la troverò anche su Premiere, guardate. Fantastico. Quindi posso in tempo reale modificare i video mettendo effetti su After Effects e ritrovarveli subito su Premiere. Quando chiuderò After Effects, mi darà un errore, questa di qua non funzionerà più perché non troverà più il file. Quindi bisogna salvare su After Effects. Chiudiamo After Effects. Se non l'avete salvato, non potete farlo perché darà un errore qui. aggiornerà automaticamente e avremo il nostro clip con l'effetto. Potete vedere. Molto comodo. Avremo il nostro bellissimo effetto. Sulla timeline troveremo il clip color magenta perché ci indicherà che questa è una composizione di After Effects. Quindi possiamo poi tornare su After Effects in qualunque istante, cliccando qua col destro e andando di nuovo su Replace with After Effects Composition di nuovo si aprirà After Effects. Oppure possiamo anche semplicemente aprire quel progetto di After Effects che abbiamo creato prima e andare a modificare quell'effetto direttamente da After Effects stesso. E lo ritroveremo di nuovo su Premiere. Questo senza aver renderizzato il video neanche una volta. È meraviglioso. Quindi non solo mi permetterà questo di avere un workflow molto più rapido rispetto a Sony Vegas, ma mi consegnerà anche di fare molti più video col masking e avere quindi molti più video con effetti molto fighi. Un'altra cosa importante che voglio dire su questo tutorial che è un video molto base quindi molte altre cose avanzate le vedremo nei successivi video di questa playlist è come gestire un attimo l'audio, come tagliare un clip e come aggiungere delle transizioni. Dopodiché mi fermo lì per non andare troppo oltre perché potrei rischiare di immettermi in percorsi molto complicati di funzioni molto complesse che non conosco nemmeno io quindi non voglio parlare troppo a fondo di Premiere perché sto ancora imparando e sto facendo questi tutorial mentre imparo a utilizzarlo. Per poter splittare un video su Sony Vegas basta andare sul punto che vogliamo premere S e avremo il nostro video tagliato in questo modo. Su Premiere non si fa così. Su Premiere si può utilizzare o il rasoio come su After Effects quindi il Razor Tool premendo C e quindi poter cliccare sul punto in cui vogliamo tagliare il video sia che si trovi la Playhead qui stesso sia in un punto qualsiasi oppure un altro modo è quello di andare sul punto in cui vogliamo e premere Control-K Adesso ha splittato soltanto il video e non ha splittato l'audio perché non erano selezionate entrambe le tracce. Quindi anche se io selezionassi sia il video che l'audio in questo modo e premo Control-K come potete vedere si possono tranquillamente splittare tutte e due in contemporanea. Però se io seleziono qui la traccia e quindi premo Control-K senza selezionare gli clip posso splittarli entrambi. Questo è molto ma molto facile da imparare poco intuitivo devo ammettere perché su Sony Vegas basta semplicemente selezionare i clip e tagliare in questo modo. su Premiere diciamo che è quasi la stessa cosa però c'è anche in più questa cosa che selezionando più tracce video e audio in contemporanea se io ad esempio ho diversi clip video e audio sovrapposti me li va poi a tagliare tutti insieme. Su Sony Vegas per tagliare tutti i clip sovrapposti non bisogna selezionare nemmeno uno e non bisogna selezionare nemmeno una traccia ma soltanto premere S. Qui invece è al contrario bisogna per forza selezionare tutte le tracce. Qui invece se non c'è nulla selezionato verranno comunque tagliati tutte e due quindi in pratica Premiere e Vegas secondo quello dello splitting sono quasi la stessa cosa soltanto che la scorciatore predefinita non è S ma è CTRL K è possibile ovviamente modificare questa cosa andando su edit keyboard shortcuts nel mio caso quindi scorciato di tastiera e quindi andando a cercare un comando chiamato add edit potete vedere ha l'asportatore il CTRL K se io vado a modificare questa aggiungendone un'altra con S ad esempio adesso è esattamente come su Vegas premio S e posso splittare tranquillamente i video quindi è molto semplice e molto comodo per le transizioni su Sony Vegas basta semplicemente spostare un video addosso a un altro in questo modo e andrà a crearmi automaticamente una crossfade su Premiere ciò non accade ma andrà piuttosto a cancellare una parte di video quindi se io ad esempio qua zoom e provo a spostare questo a ridosso di questo qui anziché andarmelo a sovrapporre andrà a tagliare questa parte di video e quindi mi andrà quindi a croppare il video praticamente questo è comodo per poter subito tagliare un video quindi ad esempio prendo questo pezzo di video metto qua ma come faccio adesso ad avere la transizione quindi anziché fare un taglionetto tra questi due clip ad avere la dissolvenza molto semplice per il video basta selezionare entrambi i clip video e premere ctrl d e quindi automaticamente apparirà questa cosa color beige che sarà la nostra dissolvenza qui si nota poco perché sono due clip praticamente quasi uguali tra loro andiamo per esempio questo di qua che è diverso vado a fare quindi qui una dissolvenza premendo ctrl d e come da vedere avremo una dissolvenza rispetto a Vegas è anche molto più veloce praticamente è la stessa cosa però mi sembra leggermente più veloce come dissolvenza molto semplice è molto bella ma per quanto riguarda l'audio beh per l'audio bisogna sezione dell'audio e premere ctrl shift d quindi ctrl d per il video e ctrl shift d per l'audio e in questo modo avremo la dissolvenza sia sul video che anche sull'audio potete vedere non è intuitivo però è abbastanza semplice una volta capito come si fa inoltre ctrl d andrà a creare la dissolvenza anche all'inizio del clip quindi se noi non vogliamo questa dissolvenza all'inizio del clip la posizione mi prende selezionare e cancellare con cange tutto qua semplicissimo bene spero che questo tutorial introduttivo di Premiere Pro CC 2018 sia stato utile e se così è continuerò senza dubbio questa serie di tutorial questa playlist con altri tutorial e altre cose che è possibile fare con questo fantastico programma vedremo anche moltissime altre cose del Dynamic Link quindi farò in simultanea anche dei tutorial di After Effects quindi con dei tutorial su un programma posso farne anche su un altro tramite le Dynamic Link quindi spiegando qualcosa su Premiere posso poi spiegare anche qualcosa anche su After Effects in video unici direi che si può fare benissimo detto questo io vi saluto e ci vediamo come sempre al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti